le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di domenica 28 luglio ariete giove marte in buon aspetto rendono più freschi i rapporti sentimentali e sono un incentivo alla buona riuscita dei progetti anche quelli fatti con amici e colleghi toro luna e marte parlano d'amore sesso e creatività gratifiche d'amore raggiungimento degli obiettivi è una domenica ideale per chi desidera rompere la routine gemelli se siete insoddisfatti di come vanno le cose non attribuita ad altri la causa forse dovete solo rivedere sogni aspettative in amore cercate la semplicità cancro luna e venere a favore portano una ventata di creatività e invitano a trascorrere una giornata con fantasia frequentate posti nuovi leone il settore dei beni materiali è messo in evidenza da mercurio che consiglia di effettuare adesso gli acquisti più importanti e necessari sul lavoro dovete essere collaborativi vergine dovete essere disposti a sperimentare qualcosa di nuovo a mutare abitudini anche se la cosa può spaventarvi proseguire nella stessa direzione vi intristisce bilancia prestate maggiore attenzione alle scelte alle esigenze della famiglia anche per le questioni finanziarie ci vuole più precisione è un periodo contraddittorio scorpione le attività creative sono protette dai transiti del periodo quindi non esitate a mettere in pratica un'idea può essere vincente per i single ci sono nuove occasioni sagittario dovete misurare le parole che dite ogni tanto vi fate prendere dalla foga rimediando anche delle brutte figure in amore è meglio non provocare il partner capricorno per gran parte della giornata sarete intenti a sbrigare gli impegni quotidiani con energia e buona volontà sfruttate le occasioni buone sul lavoro acquario marte vi infonde forza di volontà e concentrazione che vi spingono ad agire per ottenere il meglio da tutto quello che fate in amore è una giornata movimentata pesci sono le amicizie ad essere protagoniste di questa domenica organizzate qualcosa da fare con gli amici di sempre non è il momento di pensare a rapporti impegnativi e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina facebook l'oroscopo di azus